Spettacolare incidente lungo la strada regionale 308, la nuova statale del Santo. La polizia stradale è intervenuta all'altezza dell'uscita verso Campo San Piero per un autocarro che dopo aver urtato il guardrail si è ribaltato e messo di traverso. Nessun altro mezzo è stato coinvolto e feriti, ma in modo non grave, i due occupanti. La ricostruzione dell'accaduto e la dinamica dell'incidente è stata affidata ai rilievi della polizia stradale. notevoli disagi per il traffico che è tornato a regolare dopo circa due ore.